Toffelli, Ippica Nazionale e Corsa Internazionale Gruppo 2. Sulla distanza del miglio, Antenna Clare, Ariella, Cash, Artemide, Alcatraz, la più gettonata, Ariel Griffo, Y, Sexy, Sexy, Par. In seconda, Apple, Y, Saesa, America e K, Amazon, Joe, Ateno, P, A, Sexy, Bomb, Par. E Azzdora, non corre, il numero 3, anzi non partente, a Trantide. Ottimo l'allineamento. Ma via la macchina in velocità. Galoppa il 5, Alcatraz, si lotta per il comando all'attacco della piegata con Ariel Griffo alle prese, con Artemide e Allwise, poi Ariel Akesh. Insiste l'allieva di Antonio Esposito, la Varennina, 13.3 il lancio, non scende ancora, gli rientra bene Farolfi con la sua zac-zac, va a miti consigli Little Tony e parcheggia con la sua Varennina. 400 in 28,5 e davanti alle tribune viene via Allwise, pedinata come un'ombra da Sexy, Bon, Par e anche dalle altre. Fuori corsa Sexy, I, Azzdora e anche il 12, Alcatraz. 43.4 da 1.12.3 e ora controlla il buon Farolfi, la sua allieva. E a largo si fa luce Allwise, viene via il 10 di America e K con Roberto Vecchione, che punta in avanti. e America cerca l'aggancio, i cavalli vanno al completamento quasi del chilometro, con Allwise sempre a largo di Artemide. Chilometro gettonato in 14.6, sta passando, Beyond Gulp con la sua targata S. Le cavalli affrontano la curva finale, viene via Sexy Girl Parle, con D'Artagnan a largo di tutti, anticipato da Sexy Bomb Par. Le cavalli sono al completamento della curva, 14.4, 1.29, tre quarti di miglio. Ci crede Eli, ci crede D'Artagnan, ci crede D'Artagnan. Retta d'arrivo, lotta tra le due. A Sexy Girl Parle sta passando. Le due sono perfettamente apparigliate, si riprende l'avversaria, ma si riprende l'avversaria e vince Allwise a S. Uno, cinquantotto e tre, uno, tredici e nove. Signori, Beyond Gulp, Beyond Gulp si inventa un'altra guidata, con questa targata S, e respinge sul palo proprio le due par, che fanno una mostrura, fanno una grande corsa, ma si debbono accontentare di essere il secondo e terzo posto. Vince così Beyond Gulp con Allwise a S, una figlia ennesima di Baren, di Bond Oil Training e di Peter Wilman, la proprietà. E ora Beyond Gulp è in premiazione.